Anomalo contenuto della borsa, aspetti legati all'orologio e le ragioni del suicidio con modalità tra l'altro roboanti a pochissima distanza da casa dopo aver consumato la stessa colazione della mattina della scomparsa. Sono aspetti della vicenda di Liliana Resinovic che per Gabriella Marano, psicologa consulente di Sergio Resinovic e fratello di Liliana, la perizia della procura non chiarisce. Liliana scomparve il 14 dicembre 2021, il suo corpo fu ritrovato il 5 gennaio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico. Quanto emerge dall'elaborato in bozza del medico legale della procura sicuramente non appaga la richiesta di verità che Liliana e i suoi familiari meritano. La consulenza infatti riposa su tutta una serie di supposizioni di parte che, seppur apprezzabili, non assurgono alla dignità di elementi scientifici certi e univoci, scrive in una nota la psicologa Marano. Secondo i periti della procura, Liliana, dopo essere scomparsa il 14 dicembre, si sarebbe suicidata e la morte sarebbe avvenuta due o tre giorni prima del ritrovamento. Vi sono una pluralità di dati che possono sovvertire quanto sostenuto dall'esperto, prosegue la nota, elencando l'anomalo contenuto della borsa, l'analisi di alcuni aspetti legati all'orologio che indossava la donna, sottolineando la fragilità di diversi passaggi utilizzati per risalire all'epoca della morte, fino alle ragioni, se mai esistessero ma ad oggi del tutto recondite, del perché una donna distinta riservata in equilibrio improvvisamente decida dapprima di diventare un assenzatetto e poi di suicidarsi. Marano dunque annuncia, aspetteremo il deposito formale della consulenza e una volta acquisiti tutti gli atti dell'indagine faremo le nostre valutazioni.